Archiviata la convincente vittoria casalinga con il Danny Basket Quarrata, l'Amen Scuola Basket Arezzo si è rimessa al lavoro per preparare l'impegnativa trasferta di domenica alle 18 sul campo della Libertas Invictus Livorno, formazione già affrontata dagli Amaranto in Coppa due settimane fa e che già in quell'occasione ha dimostrato tutte le proprie qualità. I labronici di Coac Angiolini sono reduci dal blizza siena sponda costone confermando di avere tutte le carte in regola per disputare un campionato di primissima fascia. Nella prima di campionato da segnalare la prestazione di Tellini autore di 15 punti che dimostrano come stia dando un'impronta in regia alla squadra di Angiolini, ottima anche la prestazione difensiva della Libertas che ha tenuto il costone a soli 56 punti realizzati e soprattutto lasciando alla coppia Bruttini-Tognazzi solo 14 punti in due. In casa Amaranto in forte dubbio la presenza di Lorenzo Dolfi, il cui impiego sarà deciso solo all'ultimo momento dopo il colpo ricevuto nella partita contro Carrara che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente in settimana. Per il resto tutti a disposizione per Coac e Delia, arbitri dell'incontro, della gara che si svolgerà domenica alle 18 alla palestra d'Alessio di Livorno, i signori Uldank di Pisa e Nocchi di Bientina.